Ti stai domandando perché la pulizia dei vetri con il sistema di acqua pura Unger è molto più sicura? È semplicissimo. Perché con il sistema di acqua pura Unger lavori sempre in sicurezza da terra. Tutto questo senza i rischi che comporta lavorare su una scala. Senza quindi il rischio di cadere. Senza dover bilanciare puoi concentrarti completamente sul processo di pulizia. Si riducono i pericoli non solo per se stessi ma anche per gli altri. Ad esempio per la caduta degli attrezzi. Un altro punto a favore. La sicurezza di utilizzo grazie alla forma ergonomica della barra Precision Grip. Tra l'altro anche in altezza. Perché con l'asta idrica N-Lite in carbonio composite stendibile fino a 6 metri potete pulire in sicurezza. Senza che i moduli ruotino. La spazzola N-Lite Power si collega direttamente alla tua asta telescopica. Questo significa che avete un solo strumento di pulizia in mano e non dovete maneggiarne diversi contemporaneamente come in passato. L'acqua demineralizzata garantisce risultati di pulizia assolutamente privi di striature e brillanti. Con il sistema di pulizia dell'acqua pura Unger la pulizia dei vetri è più facile. È una promessa. Fissate oggi stesso un appuntamento per una consulenza. Per saperne di più cliccate qui.